Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su Magistro Plotus. Torniamo a parlare di Modern e parliamo insieme di un evento di 32 player che si è svolto il 26 febbraio, che è il Modern Challenge. Abbiamo deciso di portare questo contenuto perché in questo torneo, soprattutto nella top, si sono fatti vedere dei mazzi molto particolari. La gente ha provato dei mazzi particolari e si sono visti dei risultati da parte di questi mazzi. Quindi abbiamo pensato che fosse un contenuto carino e che potesse interessarvi. Vi invito come sempre a farcelo sapere nei commenti e a dirci se apprezzate questo tipo di contenuto o meno. Questo vale per questo video ma per ogni altro contenuto, come diciamo sempre. Partiamo subito con il video perché altrimenti si fa lunghissimo. Analizziamo la topot a partire dal fondo. Quindi partiamo dall'ottavo mazzo fino al primo e poi vediamo un attimino il metagenerico molto velocemente insieme. Allora partiamo subito con l'ottavo mazzo. Ottavo mazzo, eccolo qua. Magari ve lo metto un po' meglio. Affinity. Affinity è un mazzo che era sparito dai radar, parlo di rispetto ad anni fa, ma che è tornato ultimamente con delle carte molto interessanti. Potremmo dire da Horizon in poi, forse anche un po' dopo. Sicuramente la carta che ha dato il boost, ha permesso di far tornare questo mazzo è stata Orzas Saga. Allora il mazzo è praticamente, si basa veramente sulla meccanica Affinity, a differenza di tanti altri mazzi artefattosi che si sono diffusi invece nell'ultimo periodo. Ed è un monoblu con carte che appunto si basano su questo, come per esempio Top Monitor, che è questo artefattone che si sconta con Affinity, si sconta per ogni artefatto, ci fa pescare due carte. Toadcast che fa la stessa identica cosa ma è una Sorcery. E poi abbiamo tutte le creature con Affinity come la Ranocchia, che è questa qua, la Salamandra, questa nuova carta qua di Kamigawa, che è molto forte, ha dato un bel impatto a questo mazzo, con War 2, costo 2, 1, 1. Quando lanciamo l'artefatto si pompa, mettiamo il segnalino più 1, più 1. War 2 è veramente molto, molto, molto forte. Carta che mi piace molto. E poi vabbè, i soliti Mame Nitor, Nithottero, più tutti gli artefattini possibili e immaginabili, quindi il Drum che ci permette di rampare, la Cranial Platin che serve per chiudere, ci dà più 1, più 0 per ogni artefatto, Shadow, Spear Reliquia e vari tool tuttorabili con Urza Saga, che come diceva la carta che ha dato veramente una spinta forte a questo mazzo. Sono contento di vedere un risultato da parte di questo mazzo. Sicuramente anche le terre artefatto possono dare una mano, sempre parlando di carte di Horizon. E' un mazzo che tra l'altro è anche particolarmente economico, ovviamente economico rispetto al Modern, non in generale, e quindi può essere una scelta interessante. Mono blu, molto carino. Se vi piace questo tipo di meccanica, può essere un mazzo da cui iniziare se non volete traspendere per iniziare a giocare il formato. Quindi ottavo posto con un 5-2, più che onesto. Poi abbiamo un altro monocolore, monored midrange. Anche questo mazzo è un mazzo un po' di nicchia. Vedete che sono tutti mazzi particolari, che non si vedono tantissimo. Forse monored midrange un po' di più. Si basa sul companion che è Obosh. Questa 3-5 a costo 5, che dice quando una fonte con costo di mana dispari fa danno a un permanente o a un giocatore, fa il doppio di quel danno. Quindi noi giocheremo tutte spell con costo dispari, che faranno tutte il doppio del danno. Companion è una meccanica forte, l'abbiamo appurato. In più si è accompagnato da carte come Ragavan, che non ha bisogno di presentazioni. Season Empiromancer, Fury. Bonecrusher Giant, che vi ricordo ha costo dispari. Perché il costo di mana è quello in alto, quindi 3. Poi abbiamo le removal forti, i flameslash, Bolt. Abbiamo il Lazard per fare un dannino, che può essere anche una terra, quindi ci permette di giocare meno terre. Reliquie, scelta probabilmente per il meta. 4 Blood Moon, molto molto forte in questo meta, che vedremo ha tutta una serie di mazzi multicolor, che ovviamente muoiono da Blood Moon, o comunque la soffrono molto. E il Fable, anche questa di Kamigawa, nuovo arrivo. Per nuovo arrivo, ragazzi, vi ricordo sempre che stiamo parlando del Modern, quindi a volte mi sentirete dire nuovo arrivo riferito a Kamigawa. Ovviamente il nuovo arrivo è nel formato, non in generale. Di espansioni poi ne sono uscite ovviamente tante altre. Però, diciamo, per il Modern è una delle ultime carte. E poi niente, il rosso, Blast Zone, un po' di terre animabili, Sokens, tutti e due. Il mazzo è molto forte, mi piace anche molto. È un'altra scelta monocolore, ma che a differenza di Affinity non è per nulla economica. Vediamo il prezzo qua in alto. Ovviamente dovete giocare Ragaman, dovete giocare Furi, dovete giocare un po' di carte costose, le Blood Moon che comunque non sono estremamente economiche. Quindi scelta già molto meno economica di Affo. Però anche questo è un buon risultato, 5-2, altro monocolore che può pagare. Il fatto di giocare Blood Moon di me, l'ho detto ma lo ripeto, è una cosa che mi piace tantissimo. E giocare 4 Blood Moon di me in questo meta lo trovo fortissimo. Quindi un mazzo che se lo può permettere, a mio parere, non è male. Tra l'altro il companion è veramente gratuito in sto mazzo, cioè sacrificate veramente poche cose, costo pari, per giocare Owosh. Quindi molto molto forte. Poi andiamo in su, sesto posto per Jagmoth. Questo invece è un mazzo già un po' più diffuso. È un BG, potremmo dire combo, una via di mezzo fra il combo e il pod, il vecchio pod. Si può tutorare tutto di più con Corda e Eldritch, che sono i nostri tutorie principali. La carta principale che andremo a tutorare è Jagmoth, che sinergizza particolarmente bene con i nostri Ghast, con il nostro Youngwolf. Insomma, il mazzo lo conoscete, non ci dilunghiamo. Qualche tech veloce, potete tutorare Grist, anche questo probabilmente lo sapete, ma vi ricordo che è una creatura nel mazzo, quindi se voi fate Corda into Grist, avete un'area removal, praticamente, perché potete tutorare un placewalker che farà removal, cosa molto molto forte. Il mazzo è solido, è un BG abbastanza classico, con questi tutori e un piano combo. L'unica sfiga di questo mazzo è che è molto molto incentrato su Jagmoth. Se l'avversario vi fa Pete in Needle su Jagmoth e non è riuscito a toglierlo, ci saranno delle partite che veramente dovrete arrancare per chiudere la partita. Detto ciò, il mazzo è forte, ha chiuso con un 6-1, quindi prova di un bel mazzo. Anche qua non mi dilungo, perché essendo un mazzo abbastanza conosciuto, non ha senso, preferisco perdere più tempo su quelli più di nicchia. Poi abbiamo il G-Scape Rowers, un altro 6-1, quinto posto. Allora, qua è una via di mezzo, diciamo, fra un tempo e un barn, no? È un agrotempo, con carte ovviamente molto aggressive, quindi come Monastery Swispier, che si pompa per ogni spell che abbiamo lanciato, non Crichur. La Ray Channel, che la conosciamo tutti benissimo. Lo Soulscar Mage, che ci permette di mettere segnalini meno uno, meno uno, quando facciamo danni con non-combat damage. Sprite Dragon, che si pompa all'infinito ed è un volante rapido. E poi tutti i botti possibili, immaginavi, più expressive interaction. Michelle Spavol e Underworld Breach. Carta che si è rivelata essere veramente forte negli ultimi periodi, molto importante per permetterci di rigiocare le spell dal cimitero e quindi rifare spell nel momento in cui abbiamo esaurito qualcosa dalla mano. le nostre risorse dalla mano. Mazzo molto molto carino, anche questo non estremamente costoso se non per il reparto, diciamo, TR. Se avete già la mana base, non è un mazzo costoso, particolarmente costoso. Se non avete la mana base, potrebbe essere un problema. Però per tutti coloro che hanno già questa, insomma, questa parte del formato, quindi fetch, shock, potrebbe essere un bel mazzo da montare, magari da provare. mazzo è, come dicevo, è un aggro, non credo che si sostituirà completamente al buon vecchio barn, però probabilmente in questo meta hanno ritenuto, l'hanno ritenuto una scelta migliore e a quanto pare è anche pagato perché comunque un 6-1 vuol dire che è il mazzo bello prestante. Poi abbiamo Tron, l'intramontabile, che ogni tanto torna dal, dall'oblio e ci regala qualche sorpresa. Qua, vabbè, il mazzo è sempre lui, è sempre il classico, giocate tutti i ciccioni possibili. Carta nuova, Leveler, ve l'abbiamo consigliato in 200 video, sapevamo che sarebbe salita parlando proprio economicamente e lo ha fatto. È una carta molto forte, un 8-8 Trampol che sul cast fa removal e poi lo potete rifare con un Aert, è veramente una carta da tronce, è proprio scritto il Drazi sopra cammuffato da costrutto. Infatti ne hanno inseriti due addirittura in Moderna e ci può stare comunque a fare a Muval. Le altre sono le solite, Vurko, Ulamog, Karna, Ugin, Tutori per le terre, Lo Steerings, Warping Wall che forse è molto forte in questo meta. Il fatto di esiliare una creatura con forza o costituzione pari a 1 per Trono può essere importante. Trono purtroppo sta soffrendo la presenza di Ragavan nel formato. Terra Ragavan contro Trono se non fare Muval è un disastro, è veramente un disastro e quindi la scelta di giocare due Warping di Main è assolutamente sensata e la condivido al 100%, così come condivido quattro gash a decide. Purtroppo se l'avversario parte di Terra Ragavan iniziando lui è veramente un problema per Trono. Quindi ci sta, scelta che condivido appieno. Comunque quarto posto 6 a 1 quindi alla faccia di chi diceva che Trono con Ragavan era morto non mi sembra non mi sembra per nulla se non con appunto questi accorgimenti che purtroppo sono dovuti al meta. Poi andiamo in top terzo posto Amulet altro mazzo che in realtà non è una particolare sorpresa lo conoscete il titanino nostro amico da tempo del formato che si porta con sé due terre anche questo mazzo ovviamente con Urza Saga ha subito un boost incredibile non ha avuto grosse aggiunte negli ultimi periodi se non il cultivator eccolo qua ma ormai c'è già da un po' però diciamo che le modifiche sono veramente minime rispetto al vecchio Amulet niente il mazzo è sempre lui da tempo non mi dilungo più di tanto poi andiamo sul secondo posto Creativity mazzo invece un po' più recente rispetto ad Amulet sicuramente tanto più recente ma che si sta affermando uno dei tier del formato ormai si basa ovviamente su Creativity questa carta che distruggendo due artefatti e o creature ci permette di guardare rivelare le carte della cima del Grimorfin quando riveliamo una carta che condivide no una creatura scusatemi di quando riveliamo una creatura quindi noi giocheremo solamente quattro quattro arconti nel mazzo ogni Creativity che tiriamo ci tirerà in gioco un Arconte spesso volentieri riusciremo a fare Creativity da due quindi staccando per esempio due creature o due tesori capite che fare doppio Arconte di turno insomma è difficile per l'avversario riprenderla perché fai sei danni sei vite peschi due scarti due sacchi due creature e o due sei sei che quando attaccano rifanno la trigger insomma non è che sia proprio il massimo della vita se mi tiri due Arconti di solito non sono contento mazzo anche questo molto molto solido un piano combo perché alla fine è una combo fortissimo il fatto di giocare solamente quattro Arconti quindi non potete giocare né artefatti né creature né altre creature per non rivelare quelli dalla cima del mazzo non ha particolari sfighe perché alla fine voi volete giocare solamente counter removal e la creativity per scombare potete anche giocare place walker quindi vi giocate pure quattro avranes x che mi sembra una carta forte il fable che ci permette di fare il pezzo che poi sacchiamo per creativity fa pesco scarto se vogliamo buttare via delle carte che abbiamo in mano quando si flippa copia pure una creatura non leggendaria e guarda un po' il caso Arconte non è leggendaria quindi possiamo pure fare Arconte fable copia Arconte faccio un'altra trig insomma direi che di nuovi arrivi ne abbiamo di carte forti ne abbiamo anche la bitter reunion nuova e il mazzo si conferma un tire molto molto forte primo posto 6-1 anche per questo mazzo non l'ho detto primo posto un bel 7-0 secco per Gorio un mazzo veramente particolare Gorio in realtà si giocava già ai tempi ai tempi di Noè quando ho iniziato a giocare Modernio però è tornato in una versione un po' tutta particolare che gioca vabbè sicuramente gli Emrakul vecchia maniera la nuova giunta è Atraxa questa carta che è veramente molto forte costo 3 più 4 mana colorati tutto tranne il rosso volare cautela tocco letale legame vitale quando entra riveliamo le prime 10 carte del nostro mazzo e mettiamo in mano ogni carta con un tipo diverso quindi per esempio un istantaneo una stregoneria una creatura abbiamo fatto delle prove ed è praticamente impossibile matematicamente quasi impossibile girare meno di 3 carte cioè questa quando entra pesca da 3 a 5 mediamente sempre è proprio quasi impossibile che in 10 carte non ci siano almeno 3 a 4 carte diverse quindi veramente molto forte in più è un 7-7 che temena con Detach cautela e tutte le varie cose tech interessante Asmo Asmo in un reanimator è molto interessante perché ci permette di andare a prendere il cookbook che non trovo mai più eccolo qua che ci scarta le carte che poi possiamo reanimare con Gorio quindi veramente molto molto carina come cosa mi piace molto perché allo stesso tempo Asmo mena anche cioè noi possiamo fare un se abbiamo il cookbook possiamo scartare fare Asmo e cercare un altro cookbook tra l'altro in più il che comunque ci fanno scartare fare tante cose in più Asmo mena anche mena e fare moval perché se facciamo i food possiamo fare 6 danni a una creatura far fare 6 danni a una creatura qui ci permette in un mazzo che comunque non è tendenzialmente molto interattivo però ci permette di giocare una creatura che può bloccare perché comunque è un 3-3 fare anche un mezzo piano aggressivo se dobbiamo menare un po' togliere qualche vita per poi chiudere per esempio di Atraxa se non possiamo reanimare Emrakul che non ha bisogno di fare tanti attacchi però per esempio con Atraxa magari dobbiamo fare 7-7-14 ci fa comodo se l'avversario ha già perso qualche vita è un bloccante fare moval con i food e ci cerca il cookbook che ci scarta le carte dalla mano e poi le rianimiamo mi sembra una sinergia molto interessante e una bella idea da giocare in questa tipologia di mazzo ovviamente non può mancare anche il Daredevil quando l'artefatto entra nel campo di battaglia lo riprendi dal cimitero in mano quindi questo qua crea dei loop molto molto interessanti con il cookbook la fontana ha anche altro nuovo arrivo quando entra fa un blood token pagando 4 sacrifichiamo la fontana e facciamo tornare due creature in mano dal cimitero in mano può essere interessante anche questa e vabbè Gorio che è la carta che dà il nome il mazzo ci rianima sostanzialmente una creatura il piano non l'ho detto mi sembrava scontato è mettere un ciccione al cimitero per rianimarlo basta molto contento di questa vittoria 7-0 è un bel risultato e molto contento che venga giocata Trax anche in Modern e molto contento del meta meta che se lo guardiamo brevemente prima di chiudere dovrebbe esserci qua di lato da qualche parte eccolo qua è abbastanza vario sono tolti i primi due mazzi che sono Murted Regent e Creativity che sembrano dominare la percentuale del meta scusate così lo vedete Murted 18% Creativity 13% poi gli altri sono tutti dal 5% in giù quindi tutti abbastanza abbastanza bassi Murted 18% quindi sembrerebbe dominare però in realtà come avevamo visto non ce n'è neanche uno in top quindi è probabilmente solo più giocato non è così dominante proprio come mazzo Creativity ce n'è solamente uno in top quindi anche questo comunque non è che sia proprio stra dominante come tipologia di mazzo tutto ciò per dire che il meta sembra essere sano e che il modern comunque sta mantenendo si sta confermando un formato molto sano e variegato e questo è positivo sicuramente positivo per il formato basta chiudo fatemi sapere nei commenti come sempre cosa ne pensate del contenuto cosa ne pensate anche del modern in generale e soprattutto cosa ne pensate di questi mazzi in top che come ho detto secondo me sono molto particolari salvo qualcuno gli altri sono veramente molto particolari quindi bello il fatto che si possono giocare e si possa ancora inventare qualcosa in un formato che ad occhio sembrava essere come dire un po' chiuso un po' stagnante invece non è così ci sono tanti mazzi che possono ancora entrare nel formato vi saluto e ci vediamo la prossima volta ciao a tutti